Siamo con Mose Ricci, è stato uno dei protagonisti dell'incontro odierno del Future Forum. Lui ha dato un'interpretazione un po' diversa del concetto di digitale e di innovazione. Forse la più grande rivoluzione tecnologica che c'è mai stata fino ad oggi, pervasiva, sottile, come dire, la percorriamo senza neanche accorgerci. Questa rivoluzione sta cambiando profondamente il nostro modo di vivere. Pensiamo a come compriamo nei negozi, su Amazon. Sta cambiando profondamente il nostro modo di lavorare, questo tutti lo sappiamo. C'è chi dice che con l'automatizzazione completa, col 4.0, i robot saranno più degli operai e quindi ci saranno problemi anche di occupazione, di ridistribuzione dei redditi. Cosa succede alle città? Cosa succede all'architettura, alle forme, allo spazio fisico? Sicuramente lo spazio si svuota, perché molte funzioni che prima avevamo bisogno di esercitare in luoghi solidi, fisicamente costruiti, si sono trasferiti e si stanno trasferendo sempre di più sulla rete. Sicuramente lo spazio diventa indifferente, perché possiamo fare qualsiasi cosa da qualsiasi punto. Basta che siamo connessi e che riusciamo, possiamo parlare, fare conferenze dal salotto di casa nostra, via Skype e domani forse in forma ologrammatica. Terza cosa, e quindi lo spazio diventa sempre più indifferente, sicuramente non rappresentiamo più nello spazio, nella moda, come facevamo nel Novecento, nella modernità, la nostra ansia di futuro. non è la casa più moderna, perché ormai la casa moderna esiste già, c'è già, l'abbiamo già, è il telefonino con maggiori prestazioni, quello che è il nostro feticcio, è il nostro oggetto di culto. Questo naturalmente presenta molti problemi, ma ci dà anche molte opportunità. Noi chiediamo agli ospiti del Future Forum qual è la loro parola del futuro, secondo lei qual è la parola del futuro? Narrazione. In tutto questo cambiamento, il rischio forte che si corre è la spersonalizzazione, il fatto che noi perdiamo progressivamente identità confusi come uno dei mille, della miriade di punti della rete. Ecco, in tutto questo, per mantenere la nostra essenza, dobbiamo, come dire, non consumare i nostri ricordi, non consumare la nostra vita, non consumare la nostra esperienza. Fellini diceva che l'innovazione è saper trasferire in un circuito globale un fatto locale. Ecco, una rete fatta di tanti fatti locali che si possono raccontare. Quello cattura il nostro interesse e quello esprime la città del Novecento che nel 2000 ci rimane come patrimonio.